Ciao d'Antonio di Calzature Nucca e andiamo a vedere oggi uno Chanel di Laura Bellariva. Apriamo la nostra scatola, liberiamo la nostra scarpina, eccolo qui è uno Chanel dal taglio piuttosto accollato con la scollatura AV in pelle di vitello morbidissima, pastosa che accoglie proprio bene il piede e abbiamo la particolarità di avere questo tacco in pitone naturale roccia con questa rifinitura che anche deriva all'interno e che gira intorno al tallone. Il tacco è di 5 centimetri quindi ideale per essere portato tutto il giorno, abbiamo una suola di cuoio con questa anima di gomma antiscivolo. Parliamo di un prodotto molto morbido e flessibile anche nella suola per poter essere portato per molte ore al giorno. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito www.calzaturenucca.it il brand è Laura Bellariva